Eccoci buonasera, è una giornata cupa in Europa perché non bastasse il clima incandescente dovuto alla guerra d'Ucraina e se volete anche alla sommossa popolare vera e propria in Georgia, è arrivata anche la notizia, la gravissima notizia dell'attentato contro il primo ministro slovacco Robert Fizzo, che è stato raggiunto da una serie di colpi di arma da fuoco sparati da un anziano, da un artista che è stato poi bloccato e che ha detto ero contrario alle sue politiche, ho voluto colpirlo. È stato tra la vita e la morte, nelle scorse ore Fizzo è stato operato, una lunga operazione, a quanto pare ora è cosciente e ci sono più speranze, tanto per intenderci a metà del pomeriggio si usava la locuzione secondo cui era in fin di vita, non è così. Fizzo è uno dei 27 capi di Stato di governo dell'Unione Europea, la prima volta che avviene un attentato di questo tipo è per di più a tre settimane dal voto europeo ed è un'ombra che va sull'Europa orientale, Fizzo era nettamente ed è il più filo russo dei leader europei, ha vinto pochi mesi fa le elezioni su una piattaforma di maggior comprensione rispetto a Putin di quella che hanno tutti gli altri leader dell'Unione, è contro l'arrivo dei migranti, è contro le comunità LGBT, insomma è il classico rosso bruno, si sarebbe detto una volta e così cominciò l'esperimento slovacco, ma questo è un altro discorso, la verità è che è un odiosissimo, gravissimo attentato che crea ulteriori timori per quella parte che già appunto vive in questi giorni non soltanto la guerra ed Ucraina, non soltanto le nuove tensioni, anche oggi Putin direttamente contro gli Stati Uniti e la stessa Ucraina a parole e poi con gli attacchi delle sue truppe, ma c'è anche la sollevazione della popolazione civile di Tbilisi per quella legge che si vuole imporre da parte del Parlamento, la maggioranza parlamentare filo russa che di fatto cancellerebbe tutto il dissenso ONG e mezzi di comunicazione. Insomma sono pagine difficilissime quelle che si stanno scorrendo in questi giorni e però da quella stessa zona, dall'altro paese più sovranista e filo russo dell'Europa comunitaria. L'Ungheria arriva la notizia degli arresti domiciliari che fanno uscire di prigione Ilaria Salis, sotto processo come sapete a Budapest, ovviamente è una buona notizia, Salis come tutti sanno è candidata con alleanza verde-sinistra per le elezioni europee, ma vedremo anche che la politica discute sul super bonus che è arrivato in aula, c'è la fiducia richiesta dal governo superato, come si sa il distinguo di Forza Italia che è stato battuto, in commissione, ora le partite sono altre. Ma come vedremo c'è la partita dei match in tv tra i leader in vista delle europee e lì c'è un esempio che arriva da oltreoceano. Il 27 giugno ci sarà il primo confronto Biden-Trump e la battaglia quanti più se ne fanno, Trump ha già proposto che oltre ai due promossi e proposti da Biden ce ne sia un altro, ovviamente su Fox, rete a lui più amica, anche lì evidentemente si fa questo tipo di calcolo. Ma vedremo anche che ci sono le notizie su Turetta, il giovane che ha ucciso Giulia Cecchettin. Alla fine delle indagini preliminari la richiesta di rinvio a giudizio a contenuti pesanti, premeditazione e crudeltà per l'azione omicida di quel giovane. E non c'è soltanto questo, del resto tra un minuto iniziamo con un telegiornale davvero fitto di notizie.